Proseguono i lavori del Ponte Belvedere all'Aquila. Nei giorni scorsi è stato demolito l'ultimo pezzo, quello che era rimasto in aria. Ci sono ancora dei pezzi da demolire, ma per ora saranno lasciati come appoggio. A fare il punto della situazione è il sindaco Pierluigi Biondi, che segue da vicino il cronoprogramma per la restituzione alla città di questa importante opera pubblica molto attesa. Anche questa mattina operai al lavoro. È una situazione in continuo divenire, naturalmente con delle scelte tecniche che tengono conto della complessità dell'opera. Ci sono dei pezzi che devono essere ancora demoliti, ma che terremo in piedi perché serviranno per le lavorazioni successive. E mano a mano che ci sarà l'avanzamento sul cronoprogramma, ci renderemo conto di quali sono le scelte tecniche migliori. L'impresa, i tecnici sono al lavoro, sono persone competenti, attente, sono aquilani soprattutto. E quindi ci tengono quanto noi a che quest'opera rivoluzionale per la città dell'Aquila venga portata a termine nel modo migliore e nel più breve tempo possibile. Il nuovo ponte, un progetto molto interessante, viene costruito in fabbrica e poi ha sembrato il loco, per cui i tempi non dovrebbero essere lunghi una volta preparato il tutto. Le operazioni di svaro erano iniziate a fine ottobre e sono proseguite senza particolari intoppi. L'infrastruttura demolita sarà sostituita da un ponte strallato, cioè un ponte sospeso il cui impalcato sarà retto da una serie di cavi ancorati a piloni di sostegno. I lavori sono portati avanti dall'Associazione Temporana di Imprese Edi Motodima per un importo complessivo di 5,2 milioni di euro, di cui circa 200 destinati alla demolizione. L'ingresso sul via Fonte Secco, che era stato interdetto all'inizio, ora è regolarmente aperto. La costruzione del nuovo ponte, il cui progetto prevede la realizzazione di due corsie carrabili, un percorso pedonale e una pista ciclabile dovrebbe terminare nel 2022.